iniziano inizio così tutte le pantecane ecco le signorine c'è concorrenza ragazzi concorrenza spiegata è illegale ma chi offre di più? chi ne ha più ne mette guardate il corda a gruppi da 5 e da 10 fra poco che ha scalato la linea se lo sento vediamo uno dietro l'altro uno dietro l'altro cazzo come va? lo schiaffo è in culo il polletto no fatto c'è il nome di vera ah vuoi farla qua? no non si fa la ma cala se c'è la vuoi cala qua cala la cala qua cala la cala qua cala la cala qua cala guardate le pantecane ragazzi le pantecane una presso l'altra guardate roba buona c'è anche la cala di lac a sinistra che ci sta? la cala di lac non si vede si inquadri ancora le pantecane guarda questa è pazza questa sta fuori l'ha ingazzata nera questo sta contrattando guardate 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 qua ragazzi altro che l'esina ragazzi con le prove che c'è un posto migliore al mondo dei trecioli questo è bello questo è l'amore mio rende bello l'amore mio guarda cazzo vuoi? vuoi fare? homo sapiens homo sapiens homo sapiens homo sapiens ragazzi sono circa 2-3 km che stiamo camminando ed è tutto uguale qui ci iniziamo ad entrare come al solito guardate che roba guardate che roba mi va pure il vaffanculo mi fa a me me ne frega un cazzo a fondo stanno esponendo la merce la legge del mercato a questo è solo il far mondo come funziona qua una cosa fuori dal comune buona buona un po di pasta forse ma giusto un po con le 3-4 bar di pressione ma senti arbolto la rossa quanto vedi mi sono innamorato una cinquantina di volte ragazzi stasera fortuna che c'è uno che mi aspetta poi più tardi brava ragazza massaggiatrice conosciuta ieri ci sta pure la spurghettona come potete vedere scordi è un barile è un barile